Ciao a tutti, oggi vi propongo la ricetta delle ciabattine di pane croccanti senza glutine. Buonissime, dovete assolutamente provarle. Per prima cosa faccio sciogliere in una ciotola 5 g di lievito di birra secco con un po' d'acqua tiepida. In tutto utilizzerò 270 g di acqua. Poi aggiungo 200 g di farina per pane senza glutine della Nutri Free e 100 g di farina integrale sempre senza glutine della Nutri Free. Impasso energicamente con il cucchiaio, poi aggiungo 6 g di sale e 15 g di olio extravergine d'oliva. Continuo a impassare con il cucchiaio fino ad ottenere un composto simile al gelato. Copro e lascio lievitare per 2 ore. Trascorso il tempo di lievitazione, l'impasso è raddoppiato di volume, lo verso sulla spianatoia infarinata con farina di mais e riso e do delle pieghe. Se non volete utilizzare la farina integrale potete tranquillamente utilizzare tutta farina per pane, della Nutri Free oppure della Cher, la Mix B, altrimenti la Farmo o la Caputo. Dovete solo poi regolarvi un po' con le dosi dell'acqua. Schiaccio l'impasto con le mani fino a creare una sorta di rettangolo dello spessore di 1,5 cm e lo vado a dividere in 6 parti. Sistemo le ciabattine su una teglia foderata con carta da forno, copro con un canovaccio e lascio lievitare per 40 minuti. Dopo 40 minuti li vado a spolverare un po' con farina di mais e riso, una spruzzatina d'olio sulla superficie dei panini che li renderanno belli croccanti e coloriti e li faccio cuocere a 220 gradi per 25 minuti in forno preriscaldato ventilato nel secondo ripiano del forno a partire dal basso. Ed eccole qui pronte le ciabattine di pane. Spero tanto che questa ricetta vi sia piaciuta, provatele mi raccomando e fatemi sapere cosa ne pensate. A presto con un nuovo video, ciao a tutti! E io mi vado ad assaggiare questa qui con il salame, troppo buona.